La tredicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta da Yancor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Restiamo ancora sempre nella categoria della sostenibilità, che come sottolineato Manuela è un'altra delle parole chiavi di questo momento. Il premio è Eccellenza dell'Anno, Innovazione e Sostabilità, Lavorazioni Tessili e il premio va a Tintoria e Stamperia di Lambrugo. Un bel applauso, eccola che arriva, per essere un'eccellenza italiana leader nel settore tessile, in particolare per l'utilizzo di macchinari sempre innovativi e per aver investito nel campo del risparmio energetico e nell'ottimizzazione dei consumi delle fonti energetiche, diventando negli anni una realtà moderna, dinamica e competitiva nelle elaborazioni tessili. Complimenti, complimenti, grazie. Siamo in compagnia della dottoressa Shanti Rigamonti, amministratore delegato di Tintoria e Stamperia Lambrugo. Benvenuta. Buonasera, grazie. Oggi si parla molto di sostenibilità, dell'importanza di essere sostenibili, anche l'Europa lo ha fissato come obiettivo. Ecco, volevo capire da lei che ruolo avrà la sostenibilità nei prossimi anni. Allora, la questione della sostenibilità ovviamente è un parolone che può avere un sacco di sfaccettature. La sostenibilità deve essere intesa come grande responsabilità. Responsabilità nell'ambito, ad esempio nel nostro settore tessile, proprio della filiera, cioè quello che viene controllato e gestito dal monte al valle. E di sostenibilità si parla in termini spesso di certificazioni, però le certificazioni ormai sono diventate un elemento fondamentale, cioè devi avere le certificazioni ma poi devi seguire un comportamento etico all'interno della struttura. A livello politico ci sono, diciamo, delle posizioni anche molto confusionarie sul termine di sostenibilità. Io credo che quello che debba essere riconosciuto, anche a livello ovviamente europeo, soprattutto perché ormai facciamo parte di un mondo globale, sia la responsabilità che le aziende hanno nei confronti dei propri dipendenti, nei confronti della propria filiera, quindi dei propri stakeholder in entrata e in uscita. Quindi questo per me è quello che dovrà essere un po' l'idea di sostenibilità e che immagino sarà, anche perché dopo il Covid e con la guerra tutte le relazioni col sud-est asiatico, con l'America, sono cambiate radicalmente e laddove c'è manifattura e c'è un know-how reale e tangibile, il lavoro c'è, le capacità ci sono, vengono implementate e vengono riconosciuti. Per cui quando si legge che è un momento difficile, c'è la crisi, è parzialmente vero, perché le capacità e le potenzialità sul mercato ci sono, però ovviamente bisogna investire e come imprenditori abbiamo un ruolo fondamentale su questo. Ecco, nel vostro settore, ma come anche in tutti i settori industriali, c'è poi il problema oggi dei passaggi generazionali, ma soprattutto il problema di reperire anche delle figure specializzate, del personale qualificato da dover anche formare, insomma. Ecco, cosa può dirci a riguardo qual è la sua visione? Allora, in questo momento, credo non solamente nell'ambito tessile, la problematica della reperibilità di personale specializzato e non è difficilissimo. Sicuramente il reddito di cittadinanza nel nostro ambito, quindi locale, nazionale, ha giocato e sta ancora giocando un ruolo molto negativo, perché il lavoro è molto complicato, molto difficile e soprattutto in realtà aziendali, come ad esempio la nostra che lavora su tre turni, viene pagato bene, ma devi dedicare molto tempo. E in alcuni ambiti, rispetto a determinati contratti nazionali, il reddito di cittadinanza comunque non è tanto diverso da quello che uno percepisce di fisso mensilmente. E quindi succede che la gente preferisce decidere di non far fatica e di stare a casa. E concettualmente, culturalmente, questo è un problema gravissimo. Oltre a questo, poi c'è anche un aspetto culturale e di non preparazione dal punto di vista degli istituti tecnici. Ci sono gli istituti tecnici come ad esempio l'Enfapi, i vari ITS, che non preparano. Cioè non c'è istruzione, quindi non preparano e di conseguenza noi adesso stiamo cercando di reperire ragazzi. Abbiamo trovato un'ottima offerta di lavoro dal Sud Italia, perché dal Sud Italia ci sono dei ragazzi che hanno una grandissima voglia di lavorare, però che devi formare. E quindi devi affiancare e i costi si triplicano ovviamente, perché se sei uno specializzato e devi imparare un mestiere, lo devi imparare. Quindi questo è sicuramente un tema molto molto scottante. Ad oggi, ma credo non solamente nel settore tessile in tutti gli ambiti. Ecco, come vede la filiera tessile nei prossimi anni? Quindi quali saranno i potenziali sviluppi del settore? Sinergie, gruppi, grossi gruppi. Non a caso si legge sui giornali, ad esempio Gruppo Florence, Holding Moda, ci sono comunque delle aggregazioni importanti, soprattutto a livello delle PMI. Noi a livello strategico abbiamo deciso di non crescere più, nel senso la nostra capacità produttiva ormai è satura, di alzare l'asticella, quindi di cercare di garantire un servizio ottimale rispetto ad una fascia di mercato massima. siamo aperti ovviamente a eventuali ulteriori collaborazioni, anche con dei gruppi, però la verità è che se non ci si aggrega si va poco lontano, ecco, perché ormai si parla di macro area a livello industriale e quando tu hai a che fare con grossi poli, anche a livello diciamo di politica, di capacità, di contrattazione, diventi molto più piccolo.